hashtag caffè qui è un po difficile trovare un posto buono per bere un caffè decente praticamente fa schifo proprio io italiano napoletano caffè doc mi sono portato la caffettina da casa caffè diciamo nazionale italiano sì il caffè americano l'ho provato a bere però non non mi gusta come caffè napoletano come subituato lo fanno troppo lungo lo fanno diciamo acqua